Senza appoggiare amore, ecco, bravissima, si è riuscita a vedere le piccoline strisce? Brava, dopo le disegniamo eh? Ok, adesso a Matteo, vieni Matteo, dopo anche a te, vieni Matteo un po' te che vedi, il tuo nome, il tuo nome, no, allora guarda, guarda Matteo, tu devi appoggiare leggermente l'occhio qua, bravissimo, vedi? Senza, ecco, senza appoggiare, bravissimo, così, le vedi delle cose piccole e scure? Sì, dopo le disegniamo, lo sai? Brava, a Carlotta, sì, vieni Carlottina.